C'è un po' di delusione su questa manovra finanziaria che ha fatto Crocetta e portato al Parlamento perché anche lì non vediamo come CISL nessuna misura strutturale per aggredire la parte di spesa storica consolidata che è tutta controllata dalla politica per logiche clientelari, dalla sanità, le spese sociali e quant'altro e in CISL ce n'è più che nello Stato.